SACNOID Oggi ragazzi Allora Oggi vi farò vedere Le mie carte Cioè le carte di calciatori Ora ve le facciamo vedere Ragazzi Allora ne ho tante Spero di finire Subito, presto Il video Allora Già cominciamo da quelli del Napoli Quelli là proprio belli Che proprio sono bravi Portiamo subito Con Fausi Gulama 82 Come state vedendo Ora il difensore Poi Leonardo Vabbè che se ne è andato Ed è attaccante Poi Raula Bion Poi ragazzi Alla fine vi devo far vedere Una cosa molto Come vedete Come vedete Difensore Poi Allan Come state vedendo Centro con pista E poi Onas Che l'ho trovato E Driss Mertens ragazzi Driss Mertens Veramente Attaccante Poi tengo pure Maurizio Sarri Come allenatore Ora ve lo faccio vedere Però Lo devo cercare Eccolo qui Maurizio Sarri Allenatore Del Napoli Poi passiamo Le carte Forti Con Eccolo qui Pelliseridolo Ora ve lo faccio vedere Attaccante Poi Ragà alla fine Dovete vedere Una cosa Veramente forte Patrick Schick Attaccante Poi Donna Rumma 89 Scringar Super Draft Difensore 89 Poi Curticidolo Centro Campista Della Talanta 83 Poi Bertolacci Idolo Centro Campista Ragà Vengo un sacco Di idoli Infatti Poi Maglianelli Idolo Madone È caduta Centro Campista Poi Andiamo Avanti Che tengo Un altro Idolo Maselli Idolo Eccolo Eccolo E poi Ne tengo Uno Della Juventus Ne tengo Uno Della Juventus Che è Dallas Costa Centro Campista Poi Tengo 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 Ecco Tengo proprio questa Guardate qui Nani 83 Della Lazio Però mi sembra che Nani E' andato E' andato in vestito Alla Lazio Come state vedendo Eccolo qui Nani Che cos'è Attaccante E adesso Sì ragazzi Però comunque Ho molte carte Quindi per alcuni Ne tengo Dei pipponi Poi in un prossimo video Ve lo farò vedere Però per questo video A meno Aggi a meno 8 mi piace Però sono Su queste carte 8 mi piace Però E ragazzi E' arrivato Il momento Della verità Il fenomeno La carta Più forte Del gioco Si chiama La carta Invincibile Eccola Qui Eccola Eccola Con Hamsik Bonucci Nengolan Icardi E Buffon Iguoni Eccolo qui Olè Ma bene ragazzi Biro dice qua Mi raccomando Sì 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 Quindi Da Marco Cops E' tutto Un abbraccio Da Marco Cops 2 Bona Campioni Grazie.